Stai a fargli la bocca, come stai? Vuole vedere di più Ernesto, mi ha detto il cane, vuole vedere un numero incredibile. Signori, oggi, questa sera, faremo vedere questo grande numero che io non so fare, ma tu come sempre sa fare lui. Circus, americano, John è un magico, Circus, venese. Renei Schiozza. Buttati dentro, Johnny. Ehi, bravo, bravo. Che bravi, le Circus Chioggia. Grazie. 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 Grazie.